Ehi amici, allegria! Ehi, adesso, forza maestro, tutti insiemi, brasiliani, italiani, auguri! E c'era, piove! Dove sta? Dove sta Zazzà? Io penso che sono innamorato di lei. Tornuto! E' carcamato! Andiamo insieme! Allora, va bene! Continueremo questa bella danza, questa serata italiana! Ecco le mani, le mani, le mani, le mani! Dove si mangia? Dove si balla bene? E Giuliana, dove sta? E adesso, forza, l'ultima volta! Ciao! Hey! Ciao! 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 Ciao!